Su questo tema credo che conosciamo tutte le posizioni delle varie forze politiche in campo. Io credo che anticipo già sin da ora che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa mozione. Al contempo però segnalo che a nostro avviso non è assolutamente sufficiente, perché rispetto alle cose corrette dette da chi mi ha preceduto, bisogna anche ricordare che il bilancio 2013 è stato approvato ma è già stato ritirato. È stato approvato da qualcuno che in Commissione Sanità di Regione Lombardia ha detto che non sapeva neanche i numeri, quindi ha approvato qualcosa di cui non aveva neanche cognizione di causa e l'ha detto lui, non lo diciamo noi. Quindi innanzitutto partiamo dal presupposto e qua mi rivolgo alla maggioranza a chi abbiamo affidato la gestione dei nostri soldi, però questo credo sia un problema grosso. Al contempo ci sono dei grossissimi problemi di continuità aziendale per il 2014, quindi abbiamo una realtà dove Regione Lombardia ha messo più di 100 milioni di euro che non ha approvato alle soglie di aprile 2015 il bilancio del 2013 e che a voce del Presidente della stessa società non ci sono i presupposti di continuità per il 2014. Io, se fosse la mia società, non avrei perso tutto questo tempo, non starei qui a dire iniziamo con una due diligence, poi valuteremo una commissione in inchiesta per accertare le responsabilità, per capire cosa fare e posticipiamo. Se fosse mia, io innanzitutto mi sarei attivato l'anno scorso, ma non perderei un attimo, invece giustamente qualcuno fa delle valutazioni in natura politica e il Movimento 5 Stelle con Forza Italia da soli non erano in grado di assicurare 27 firme per far partire contestualmente l'iter della due diligence con la commissione di inchiesta e credo che sia una scelta sbagliata. Al contempo dico, il Presidente di NMS ha dichiarato, facendo delle allusioni non proprio superficiali, che ci sono dei presupposti di conflitto di interessi dell'attuale Direttore Generale della Fondazione, che è la stessa fondazione che non gli ha dato tutti i soldi che in teoria aveva promesso di dargli. Stiamo parlando di conflitti di interessi, dichiarato dal Presidente di NMS verso la fondazione controllante che è diretta a emanazione della Regione. Ce l'ha messo per iscritto? Questo stesso Presidente che prima non si è presentato qui e posteriori ha detto mi sa che ho sbagliato, sono pronto. Quindi il concetto mio è incontriamolo, commissione di inchiesta è secretata, lo facciamo venire e ci facciamo raccontare le cose, perché un conto sono gli aspetti numerici della partita. Ricordiamoci che è un gruppo societario, non stiamo parlando di una società singola, si parla di lavoro che richiede del tempo, dei mesi, però oggettivamente noi abbiamo bisogno anche di capire le dinamiche esterne rispetto ai meri numeri, perché se noi sappiamo quei soldi dove sono andati a finire, quei buchi da cosa erano dovuti, beh io credo che valga la pena di fare una riflessione più approfondita. Banalmente io non so voi, ma noi abbiamo ricevuto segnalazioni di alcune vendite di molecole a cifre sottostimate, bene, permettete che noi ci domandiamo A perché eventualmente, innanzitutto bisogna capire se è vero, B se fosse vero qual è il motivo che sta dietro e C, ci sono delle utilità alternative a questo tipo di vendita, perché abbiamo letto tutti che c'erano dei conflitti di interessi da parte di chi gestiva questa società, con consulenze da avvocati con gli studi legali, consulenze con i commercialisti, manager che guadagnavano 450 mila euro all'anno e non hanno avuto neanche il coraggio di venire qua a metterci la faccia e rispondere alle domande del Consiglio regionale che dovrebbe A dar l'indirizzo, B fare controllo. Ma io credo che noi stiamo andando un po' a rilento. Qualcuno si è indignato per 15 milioni stanziati per un referendum per coinvolgere i cittadini nelle scelte e prende tempo quando si parla di 100 milioni che non sappiamo neanche dove sono andati a finire, tenendo conto che ne abbiamo appena stanziati come Regione Lombardia più di 10 recentemente. Quanto tempo fa? Poi ce lo dirà probabilmente l'assessore. Allora, a me sembra che stiamo facendo una scelta dettati da volontà politiche, ma totalmente sbagliata, soprattutto da chi sta in opposizione. E io mi rivolgo chiaramente soprattutto alla forza, al PD in questo caso e alla lista civica Ambrosoli, perché per mere scelte politiche noi stiamo buttando via del tempo, perché anche la due diligence nel momento in cui parte e guarda dei numeri assettici troverà tutta una serie di regolarità. Ma se noi riusciamo a indirizzare loro per aree in forza di informazioni riservate che abbiamo ricevuto da chi conosce le dinamiche conflittuali, beh forse noi siamo in grado di indirizzare la due diligence in maniera più accurata, siamo in grado di vedere i collegamenti che oggettivamente altrimenti non vediamo. Perché ricordiamoci che non possiamo affidarci soltanto una relazione della PricewaterhouseCoopers e dei revisori, perché i revisori una volta che la Regione gli stanzia l'assicurazione di garanzia di avere i soldi, loro la continuità l'assicurano, si tutelano il sedere, scusate il francesismo, e poi non gli interessa più nient'altro. Ma chi conosce come funziona la sua società queste dinamiche dovrebbe saperle. Le dinamiche di come funzionano le società di revisione io credo che le dovremmo sapere. Invece siamo qua a perdere altro tempo. Siccome io sono stato mandato qua, perdonatemi, per tutelare i soldi e degli interessi dei cittadini, io mi aspetto che noi siamo qui a farlo. e vorrei capire quali sono le motivazioni che sottendono alla decisione di posticipare ulteriori tempo, anche perché tra poco ci sarà la necessità di fare eventualmente delle nomine di questi enti, tutte in capo all'esecutivo, e io credo che le forze politiche in Consiglio non possono fare da spettatori. Poi, per l'amor di Dio, qualcuno, io mi sono permesso di dire anche, non so, ci sono degli interessi alternativi? È legittimo da parte mia domandarmelo, perché quando consideri persone con testa, le persone dall'altra parte, e non ti dai una motivazione logica, sei costretto, per forza di cose, a fare delle valutazioni che vanno al di fuori del campo della legalità e delle cose corrette. Perché se la maggioranza e l'assessore oggi siano interessati a non tirare su un polverone, e io non condivido la posizione dell'assessore Garavaglia sulle motivazioni, hanno un motivo. Loro sono una maggioranza che governa questa regione da anni, e quindi posso capire le motivazioni. Non capisco le scelte dell'opposizione. Tant'è che la commissione d'inchiesta è uno strumento messo a disposizione appositamente delle opposizioni. Tant'è che servono 27 firme, e noi ne abbiamo 31. Quindi io questo continuo a non capirlo. Noi voteremo a favore, però, ripeto, stiamo perdendo tempo. E non voglio che, quando la situazione si andrà a gravare, perché è da più di un anno che ci viene detto no, no, tranquillo, è tutto bene, ogni volta arrivano informazioni negative, ogni volta le persone che parlano di questo tema non hanno idea di cosa stanno parlando, ed è una cosa, secondo me, gravissima, tutti saremo qui indignati a dirci ah sì, no, ma noi lo sapevamo, l'avevamo detto, avevamo chiesto informazioni, eppure siamo qua a perdere tempo. Quindi chiudo ricordando che noi voteremo a favore, però mi aspetto che prima della fine della due diligence, perché non so neanche quando partirà, qualcuno valuti in maniera diversa questo approccio, perché noi non siamo la stampella di nessuno. Mi domando se qualcun altro invece vuole farlo. Grazie. Grazie. Grazie.